Dottore Aquilanti, siamo qui nel reparto di radioterapia. È questa la macchina che viene utilizzata per questo tipo di terapia? Sì, siamo nel bunker e questo è il nostro acceleratore, il nostro LINAC, che è un Versa HD di ultimissima generazione. Come dicevamo, la macchina è in grado di erogare altissime energie in un tempo breve, quindi ci permette di ridurre il tempo dei singoli trattamenti, magari trattamenti che prima duravano anche fino a 10 minuti, un quarto d'ora, adesso possono essere erogati in 5-6 minuti. Dipende dalla patologia? Ovviamente, sì, dipende dalla patologia, dalla dose e dal frazionamento che viene effettuato. E in più la macchina è dotata di tutta una serie di sistemi di controllo che ci permettono di essere più precisi e quindi automaticamente di essere più efficaci e di dare meno effetti collaterali. Quindi c'è un sistema TAC integrato che ci permette di verificare sia prima che durante il trattamento la posizione sia del target che del paziente, degli organi a rischio. Faccio un esempio, per esempio le neoplasie prostatiche. Noi verifichiamo la posizione della prostata, verifichiamo la posizione del retto e vescica che si trovano in prossimità e siamo sempre sicuri di erogare la dose al target risparmiando questi organi che si trovano in prossimità. Così facendo riduciamo il rischio di effetti collaterali. Inoltre è dotato anche di alcuni sistemi infrarossi e di un sistema di gating che ci permette di monitorare le fasi del respiro del paziente quando eseguiamo dei trattamenti su organi mobili. Quindi parliamo ad esempio del polmone, del fegato, del pancreas e un'altra cosa ancora più frequente, le neoplasie mammarie perché fino a pochissimo tempo fa non si utilizzava questo sistema per l'irradiazione delle mammelle. Invece si è visto che dà un grosso vantaggio soprattutto per la mammella sinistra che si trova proprio al di sopra del cuore. Quindi riusciamo a dare al cuore una dose molto bassa che non provoca alcun problema. Quindi un controllo totale del paziente? Un controllo più consapevole, sì, del paziente che quindi ci permette di, come dicevo, erogare i dosi anche più alte che quindi sono molto più efficaci per la cura del tumore e riusciamo a dare effetti collaterali scarsi o nulli. Tra gli effetti collaterali scarsi è anche il problema dei capelli? Allora, il problema dei capelli in realtà si verifica soltanto per trattamenti che vengono eseguiti a livello del cranio però anche in questo ci sono parecchie innovazioni, nel senso la terapia che è stata fatta per anni era una terapia che veniva eseguita su tutto l'encefalo. Adesso nei casi in cui le lesioni encefaliche o la malattia insomma è localizzata noi riusciamo ad eseguire dei trattamenti specifici solo su quel target risparmiando tutto il tessuto cerebrale e in questo modo non irradiando più tutto l'encefalo non c'è più il rischio di caduta dei capelli.